alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti scrittori alla sbarra in studio Daria Galateria Buonasera a Daria Galateria oggi ci occupiamo di uno dei più famosi processi letterari di tutti i tempi quello a Baudelaire, quel fatale 1857 in cui incriminarono le sue carie poesie aveva appena conosciuto Flaubert Baudelaire quell'anno anche lui chiamato in giudizio proprio nel 57 e Flaubert sicuramente gli raccontò ridendo di una cena di tanti anni prima all'epoca in cui il generale Hopic, l'odiatissimo secondo marito della madre era ambasciatore a Costantinopoli durante il viaggio in oriente Flaubert era arrivato in ambasciata e durante la cena i coniugi Hopic avevano chiesto all'ospite le novità di Parigi se c'era qualche giovane che si faceva notare ah certo avevano risposto con calore Flaubert e i suoi amici c'è un ragazzo, un poeta, che è un genio un certo Charles Baudelaire e non avevano capito come mai il gelo era caduto sulla cena ma nonostante tutto quell'odio, tutte le incomprensioni ricambiate tra il generale Hopic e il giovane Baudelaire durante il processo che fu per Baudelaire una tempesta sentimentale il poeta andò a visitare la tomba del patrigno che era scomparso il 7 aprile di quell'anno e rimase a guardare le corone appassite dalla pioggia sapeva ormai che i poveri morti hanno dei grandi dolori come diceva un verso delle sue poesie incriminate per oscenità nel maggio del 1857 uscendo dalla casa di una prostituta incontrò il più gran critico dell'Ottocento Sandberg aveva appena contribuito a salvare con un suo articolo Flaubert incriminato per Madame Bovary Baudelaire non sapeva che avrebbe avuto bisogno anche lui e molto presto dell'appoggio di questo prestigiosissimo critico di Francia ma normalmente lo trattava con una specie di rispetto anzi gli aveva dedicato una bellissima poesia dei ricordi di scuola in berbi allora sui vecchi banchi di quercia ma per il gusto aristocratico di dispiacere in cui consisteva il dendismo di Baudelaire quel giorno incontrando il venerabile Sandberg davanti a una casa d'appuntamenti invece di tirar dritto lo guardò so dove state andando gli disse io so da dove venite voi gli rispose giustamente l'altro del resto non era una novità il poeta aveva iniziato la sua vita sentimentale con la strabica una piccola prostituta del quartiere latino che chiamavano Sara l'ebrea metteresti l'universo intero nel tuo letto dice una famosa poesia che Baudelaire gli aveva dedicato e continuava a legarsi con attrici che non disdegnavano l'amore venale i fiori del male uscirono il successivo 25 giugno molte delle poesie risalivano al 43 l'editore era stato trovato solo nel dicembre dell'anno precedente era Paulet Malassie un intrepido editore l'unico belga che rida diceva Baudelaire di lui era stato deportato per insurrezione nel 48 imprigionato per debiti era geniale molto energico editore per passione inespugnabile proprio nel buon umore Paulet Malassie scopriva riconosceva i poeti e fece a Baudelaire un ottimo contratto gli garantì per ognuna delle copie tirate che fosse o meno venduta 25 centesimi cioè un ottavo del prezzo di copertina un ottimo contratto Paulet non consegnava mai e Paulet Malassie era furibondo quando finalmente le poesie uscirono venne subito un primo attacco ai fiori del male sul Figaro direttamente sul Figaro il 5 luglio l'articolo era firmato da Gustave Bourdin ma molti indizi fanno pensare che fosse ispirato l'articolo dallo stesso ministro degli interni Bio questo libro è un manicomio aperto a tutte le demenze dello spirito le poesie citate come esempio di potrefazione del cuore sono le stesse che saranno indicate nell'atto di accusa il rinnegamento di San Pietro Lesbo e le due donne dannate Bourdin era stato redattore alla Gazette des Tribunaux quindi insomma l'articolo era evidentemente un segnale il Figaro si prestava in quel caso a una denuncia voluta dalla pubblica sicurezza dal ministero dell'interno direttamente incontrando Bourdin in una piscina Baudelaire si scagliò contro di lui il poeta come al solito era inappuntabile tutto vestito di nero soprattutto tutto vestito con i suoi bei stivaletti appuntiti Bourdin era in costume da bagno ma Bourdin fu salvato perché gli amici di Baudelaire lo tennero fermo il Figaro tornò all'attacco il 12 con un articolo molto più intelligente e anche più pericoloso era di tal Aubin che parla di noia che sogna di potiboli fumando il narghile di e lucubrazioni martellate a freddo nella vertigine dell'impotenza ma insomma siccome tutti credevano al genio di Baudelaire di cui tutti parlavano parlavano alla luce del sole e dice Aubin l'aquila si è rivelata una mosca eppure Aubin è stato ferito da quel libro che ha chiuso confessa travolto da una tristezza immensa come dopo una grande fatica e cita proprio rabbrividendo i versi più tremendi di Baudelaire il ferito dimenticato sotto un mucchio di morti che muore senza muoversi con immensi sforzi il 9 luglio Baudelaire scriva alla madre vi assicuro che non dovete avere la minima preoccupazione per me questo libro il cui titolo i fiori del male dice tutto ha una prova del suo valore in tutto il male che se ne dice ma il libro rende la gente furibonda vorrei farvi una raccomandazione dal momento che vivete con la famiglia Emot non lasciate cadere il libro in mano alle signorine l'11 luglio Baudelaire disturba Gautier era domenica e la domenica non bisognava disturbare Gautier per nessun motivo la chiamava la terribile domenica e perché era dedicata all'articolo per il Moniteur ma il sabato 11 luglio alle 7 di sera Baudelaire scrisse al poeta a cui aveva dedicato i fiori del male mio caro amico desidero che domani anche se è la terribile domenica tu mi possa dedicare due minuti bisognava ribattere sulla stampa gli attacchi del Figaro il processo ormai era inevitabile gliel'avrebbero comunicato solo il 17 ma un funzionario del ministero degli interni aveva fatto avvisare Baudelaire tramite il canale di Le Conte de Lille e Le Conte de Lille sventuratamente aveva lasciato passare 5 preziosissimi giorni era importante la posizione che avrebbe assunto il Moniteur che era l'espressione del ministero De Lille doveva occuparsi Edouard Thierry Baudelaire gli scrisse il 12 una lettera brusca proprio per la disperazione chiedendo un articolo per il giorno dopo perché sono diffamato a oltranza e dice Baudelaire ma l'articolo era già stato consegnato il 13 Baudelaire si reca alla direzione del Moniteur segue tutte le fasi della composizione dell'articolo lo vede tornare dal ministro Ford perché la censura naturalmente era molto efficiente all'epoca e il 14 l'articolo di Thierry esce e Baudelaire scrisse al critico che gli stringeva la mano con tutto il fuoco di un uomo che sapeva quanto gli doveva e insomma gli scrisse cosa non vi devo monsieur le ministre scrisse a Ford e perché non vorrei dirvi con candore che chiedo la vostra protezione sono oggetto di un conflitto tra tre ministri e si vanta Baudelaire con la madre temendo la recensione del Rabelais Baudelaire aveva chiesto al suo redattore capo che conosceva di non pubblicare subito l'articolo sui fiori del male siccome questo redattore capo aveva conosciuto Baudelaire alla latteria della Rue Saint-André des Arts dove ascoltavano religiosamente Baudelaire leggere i suoi versi il redattore accondiscese volentieri la recensione uscì al processo ultimato era favoribile a fine luglio scrive Baudelaire alla madre tutti quanti mi raccomandano di non aprire bocca durante il processo perché temono che mi lasci trasportare da uno dei miei accessi di collera e insistono pure che prenda un avvocato celebre un avvocato di peso che abbia buone relazioni con il ministro di stato per esempio Chez d'Estanche maître Gustave Chez d'Estanche è un avvocato per tradizione da generazione i suoi sono depositari dei segreti delle famiglie di Francia hanno facce di porco su gobbe da esopo scrivono i Goncourt che non sono mai delicati nei loro ritratti e lo raccontano mentre parla nel salotto della principessa Mathilde non parlava che di cochonnerie di grossolanità da caserma vi supplico gli scrive Baudelaire sempre a fine luglio di non trascurare le mostruosità della Chute de Nange quindi una poesia veramente considerata candida se volete vi cercherò i passaggi decisamente citate delle buone porcherie di Beranger cantore alla moda così Baudelaire prepara la sciagurata linea di difesa la linea della difesa era sciagurata ed era stata definita in questi termini citare le immoralità da altre opere letterarie rinomate il poema di Lamartine le canzoni di Beranger a cui erano appena stati tributati funerali di stato sempre meglio del consiglio di Sandbeuve che veramente non ha bisogno di alcun commento e tutti i territori erano già stati occupati nel campo della poesia Lamartine aveva preso i cieli Vittorio Gola Terra Musset Loggia altri la famiglia la vita rurale Teofilgotier la Spagna che cosa restava quello che ha preso Baudelaire che in certo senso vi è stato come costretto il 18 Baudelaire scrive a Sandbeuve una lettera deliziosa è il suo avvocato che insiste deve fargli veramente una cortesia grossa vuole l'autorizzazione a citare il consiglio di Sandbeuve nella ringa di difesa il consiglio è stupido ma è critico autorevole Sandbeuve ha la coscienza apposto avendo appena difeso Flaubert e si tira indietro il 18 agosto nell'eccitazione del processo sentendosi in fondo in diritto di avere un po' di compensazione Baudelaire prende coraggio e si rivela al suo caro idolo Madame Sabatier la présidente era una demimondaine che teneva un salotto letterario Baudelaire veramente la venerava e non a caso gli aveva regalato una copia dei fiori del male con una rilegatura color verde pallido identica ma a parte una sfumatura proprio di colore alla copia che aveva regalato alla madre Madame Sabatier cercò di aiutare Baudelaire ma era molto tardi e non fece in tempo però si concesse al poeta che era circonfuso così da quest'aura del processo l'incontro fu un fiasco il poeta e la gentile presidente ripiegarono sull'amicizia l'udienza si apre il 20 agosto l'accusatore il pubblico ministero Ernest Pinar che era lo stesso che aveva accusato anche Flaubert fu quasi imbarazzato come un po' intimidito evidentemente era preoccupato dalla famiglia di Baudelaire il poeta maledetto si era rivelato il figliasso di un generale senatore ambasciatore direttore delle colpolitecniche governatore di Parigi amico del duca di Orléans e di Napoleone III è vero che era morto ma chissà quali amici potenti restavano legati alla sua memoria Baudelaire e Pulema Lassis stavano tra due gendarmi Baudelaire era evidentemente irritato e Pulema Lassis l'editore col suo solito aspetto da Mephistofale rosso acceso per seguitare un libro per offesa alla pubblica morale è una cosa delicata cominciò prudentemente Pinar aggiungo che l'autore arriva da noi protetto da scrittori di valore da critici seri e il giudice non è un critico letterario però nel corso della requisitoria è pienata a prova di una intelligenza critica straordinaria dice intanto vede subito questa scelta della classicità delle regole artificiali convenzionali che fa dal punto di vista stilistico ritmico Baudelaire e che questo tono singolarmente monotono con cui invece parla di situazioni malsane di questi sensi usurati di queste vertigini che possono quasi uccidere di questi toni sadici e debusciati trova che l'effetto sia più che blasfemo e certo sono frivolezze lascive ma siccome sono tirate a molte migliaia di esemplari e sono vendute a basso prezzo bisogna effettivamente dare un esempio chiede di essere indulgenti verso Baudelaire una natura inquieta e squilibrata però veramente alcune poesie vanno condannate questa storia delle copie vendute a basso prezzo aveva effettivamente colpito Baudelaire che preavvertito che incombeva il sequestro a luglio era passato in tutta la fretta in libreria e ne aveva ritirate 50 copie altre 200 le aveva salvate e si vendevano scrisse Baudelaire con molto orgoglio alla madre al doppio del prezzo di copertina intanto il caldo aumenta pericolosamente prende la parola l'avvocato della difesa cita alcuni brani delle poesie sottolineando effettivamente con ragioni che sembrano omelie di rudi padri della chiesa sono argomentazioni proprio da oratoria sacra da moralisti verso il cielo in cui il suo occhio vede un trono splendido il poeta sereno alza le braccia pie oppure creatore onnipotente principio di ogni essere annoiato in realtà lui stesso Ché d'Estrange appunto l'avvocato della difesa cita senza troppa partecipazione delle pagine in cui Molière e Balzac teorizzano sull'utilità di mostrare il vizio per disgustare il pubblico ma finalmente la situazione comincia ad essere divertente e gli astanti a ridere l'avvocato ha cominciato a leggere le poesie incriminate la molto cara era nuda e conoscendo il mio cuore si era lasciata solo i suoi gioielli sonori paragonandole alle scurrilità ben più pesanti evidenti di altre opere letterarie il pubblico è incantato dalle pagine piccanti di Gautier dagli ammiccamenti molto espliciti di Musset dalle canzoni a doppio senso di Beranger nei fiori del male conclude la difesa c'è né più né meno che tutto quanto la nostra letteratura stampa e ristampa tutti i giorni Baudelaire è sbalordito sono sicuro conclude che vorrete esprimere un verdetto di assoluzione e il verdetto così si esprime per quanto riguarda l'offesa alla morale religiosa non essendo stata riconosciuta la colpevolezza l'imputato è assolto per quanto concede l'offesa alla morale pubblica e a buoni costumi accertato che l'intenzione del poeta nello scopo che si prefiggeva nel metodo seguito qualunque siano stati i suoi sforzi formali non potrebbe annullare l'effetto funesto dei quadri che presenta il lettore che nelle poesie incriminate conducono necessariamente all'eccitazione dei sensi con un realismo grossolano e offensivo del putore visto l'articolo 643 del codice penale condanna Baudelaire a 200 franchi d'ammenda e ordina la soppressione delle poesie numero 20 30 39 80 81 87 della raccolta il commento di alcuni colleghi Vittorio Go scrive a Baudelaire una delle rare decorazioni che il regime attuale possa concedere accordare l'avete appena ricevuta la sua cosiddetta giustizia vi ha condannato in nome della morale e una corona in più vi stringo la mano Merimè su cui Baudelaire aveva fatto conto aveva scritto ho dalla mia parte Sandber e Merimè Merimè l'amico intimo dell'imperatore Merimè invece scrive a proposito del precesso a madame de la Rochaclan una sua amica non ho fatto alcun passo per impedire che bruciassero il poeta di cui mi parlate ho soltanto accennato a un ministro che c'erano allora altri libri da bruciare prima e del resto questi fiori del male è un libro molto mediocre per niente pericoloso in cui c'è qualche scintilla di poesia quanta ce ne può essere in un povero ragazzo che non conosce la vita tramite l'imperatrice Eugenia Baudelaire ottenne una riduzione dell'ammenda e rimase persuaso che se avesse perorato lui la causa sarebbe stato assolto Daria Galateria vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata dialetto della sera abbiamo trasmesso scrittori alla sbarra regia di Giancarlo Simoncelli grazie a tutti grazie a tutti